Emozioni, paesaggi, camminate, salti, tuffi, amori, scoperte, imprevisti. Insomma, le storie dopo l'avventura. Questo è Blog Notes. Ciao, mi chiamo Nicola Caneparo, ho 23 anni e sono uno studente presso la facoltà di Digital Communication a Milano. Questa volta sarà un piacere mostrare le mie opere anche a voi. In questo caso vi presento un video decisamente avventoroso in terra norvegese. Un viaggio indimenticabile di oltre 14.000 km in cui anche alcuni problemi tecnici diventano routine. Il sangue freddo e i nervi saldi sono fondamentali. L'acqua mi attira e la luce è ottima, dunque diventa interessante affrontare la sfida con l'acqua del mare. 6 gradi nell'aria e 4 nell'acqua, tutto a mezzanotte. È mezzanotte, siamo a Sommaroi e adesso proverò a entrare in acqua, in questo tipo di acqua molto fredda con la bassa maria. Questo simpatico pescatore, oramai un amico, di Arle, vive ad Oslo. Si trova in vacanza dalle parti di Skarsborg e ci racconta i vari aneddoti sul pesce che si pesca in queste zone. Normalmente si pesca da ottobre a febbraio e il pesce viene per la maggior parte seccato e distribuito nei paesi europei. I pesce che vivono con i grandi bambini in casa sono un pesce professionale. Quindi si pesca e si prevede per una compagnia che guida il pesce. Successivamente ci invita a passare la serata con la sua famiglia. Se volete sapere di più su come arrivare a Caponord mi trovate su natgeoadventure.it. Io sono Niklen. Quando il viaggio è finito comincia il racconto. Entra anche tu nella community di Nat Geo Adventure con blog notes. Ogni mese puoi ripartire con i viaggi di lastminute.com. Manda i tuoi video su www.netgeoadventure.it.